Il libro Io Bullo è stato scritto da Giussi Parisi, una professoressa palermitana che ha insegnato nella scuola Padre Pino Puglisi. Quindi, bastandosi sulla sua esperienza, ha deciso di raccontare la storia di Alessandro, un ragazzo con un passato molto difficile alle spalle. Infatti ha visto arrestare suo padre indiustamente e questa grande ingiustizia gli porta un senso di frustrazione che lui sfoga nei confronti di un ragazzo in particolare, Danilo. Però fortunatamente l'arrivo di una nuova docente di italiano lo aiuta molto perché lei gli dà fiducia e crede nelle sue possibilità, ma un giorno Alessandro supera i limiti. E Danilo finisce in ospedale perché rifiuta di mangiare per diversi giorni, ma fortunatamente ne uscirà anche grazie all'aiuto di Alessandro, che capirà l'enorme errore che ha commesso anche grazie all'aiuto della sua nuova docente. Mi piacerebbe che questo libro facesse parte della biblioteca di scuola e lo consiglio molto perché è importante comprendere tutti i punti di vista, sia quello della vittima, sia quello del bullo, che è spesso anche lui stesso vittima.